Nel tardo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada statale 47 all'altezza dello svincolo di Romano Dezzelino per l'incendio di un auto, illeso l'autista. Il conducente durante la marcia si è accorto che qualcosa non andava, si è fermato ed è sceso mentre l'auto prendeva fuoco. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa hanno spento con la schiuma l'auto andata irrimediabilmente danneggiata. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono ancora al vaglio della squadra intervenuta.